Macro categoria imprese, categoria finance. Il premio è quello di società di gestione dell'anno ISG. Andiamo a leggere la motivazione. Per confermarsi il punto di riferimento del mercato per gli investimenti responsabili e sostenibili, oggetto di sempre maggiore attenzione da parte di investitori istituzionali e non solo, anche alla luce della pandemia. Per il lancio di fondi come Hertz e Smartfood, che uniscono impatto positivo a potenziali di rendimento. Andiamo a vedere subito chi è il vincitore. The winner is BNP Paribas Asset Management. Sono molto contenta di avere in collegamento con me Elisa Ori, Head of Sales Italy di BNP Paribas Asset Management. Elisa, benvenuta, naturalmente complimenti per questo riconoscimento. Grazie, buongiorno. Grazie a voi dell'invito. Siamo felici di questo riconoscimento che premia uno sforzo di lunga data e conferma la nostra identità, il nostro DNA di gestore sostenibile. È bello aver letto, nella motivazione così partiamo da qui per parlare un po' di voi, tanti spunti importanti. Intanto gli investimenti responsabili e sostenibili, che sono sempre più al centro dell'attenzione da parte degli investitori istituzionali e la cosa a cui mi aggancio ulteriormente è proprio l'anno che abbiamo appena percorso insieme, l'anno della pandemia. Insomma, essere riusciti a portare avanti questi progetti, noi abbiamo letto anche il lancio di fondi come Hertz e Smartfood, sottolinea l'importanza della vostra mission e quindi anche l'importanza di questo premio. Sì, il nostro percorso verso la sostenibilità è un percorso che ha inizio tanto tempo fa, il tempo pensiamo che giochi un importante, sia molto importante, un ruolo importante nella formazione di questa identità. Nel 2002 abbiamo lanciato il primo fondo sostenibile legato a temi ambientali, della tutela ambientale e abbiamo costruito un primo nucleo, un team di sostenibile. Nel 2006 siamo stati tra i firmatari promotori dei PRI, sostenuti dall'ONU e abbiamo continuato e abbiamo continuato nel nostro percorso con tutta una serie di cose che continuano anche oggi, quindi abbiamo messo i nostri portafogli in linea con gli accordi di Parigi, il team l'abbiamo ulteriormente rafforzato, abbiamo circa ora 30 persone con dei colleghi, dei responsabili di grande calibro, grandi esperti e è un percorso che come dicevo subisce un'evoluzione. Non soltanto credo il tempo sia molto importante, ma anche il tipo di scelte, quindi investire in risorse e competenze, fare sì che la conoscenza di questo mondo sia di tutto il team e di tutti i colleghi di Benpepa Riva Asset Management e poi di tante altre scelte quali ad esempio sviluppare metodologie interne di scoring ISG. Riteniamo infatti, abbiamo ritenuto come società che l'adozione di modelli offerti da terzi presentasse dei grossi limiti e abbiamo quindi preferito fare da soli e con un'architettura che oggi copre più di 12 mila emittenti e fornisce degli approfondimenti che poi aiutano i nostri gestori effettivamente a individuare le performance di aziende di un certo tipo. E poi le priorità, perché il tema della sostenibilità è un tema molto ampio e quindi abbiamo dovuto comunque definire, iniziare con delle priorità. Le priorità per noi sono tre, abbiamo definito in inglese tre, energy, environment and the quality e su queste tre stiamo facendo un grosso lavoro sia nella creazione di prodotti che nella promozione di ricerca, nella ricerca, nella produzione di materiale. Ecco, un percorso fatto da tanti piccoli, tra virgolette, tassellini che poi portano a grandi obiettivi, no? Quelli che comunque state già percorrendo da tempo. Lei ha detto giustamente che ci sono tanti progetti in essere, avremo modo di parlarne poi magari con l'anno nuovo, però insomma le idee ci sono, non mancano e bisogna sempre guardare avanti. La mia domanda insomma ulteriore è questa, come guardare al futuro quindi? Allora continuiamo sempre con l'idea di cambiare e quindi di evolverci anche noi. Quest'anno come dicevo abbiamo prodotto tanta ricerca, abbiamo lanciato dei fondi, lei l'ha nominato prima Earth, Smart Food è leggermente più vecchietto diciamo, comunque Earth ad esempio vuole investire su mercati ambientali con un approccio long short. Abbiamo lanciato il primo ETF sulla Blue Economy, quindi l'economia degli oceani. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti, specialmente sul filone degli investimenti tematici sostenibili che in questo momento, perché stiamo ancora nel bel mezzo del percorso autorizzativo, non posso effettivamente citare, però ne arriveranno altri, ecco è una cosa in cui continuiamo a credere, crediamo molto. Tutto work in progress appunto, no? Assolutamente. Si parla di evoluzione anche con cambiamento, perché insomma questo va sempre fatto mantenendo però gli aspetti base, insomma della mission che c'è sempre stata alla base dei vostri progetti. Io ringrazio Lisa Ori, Head of Sales Italy di BNP Paribaset Management, complimenti a tutto il vostro team e ci risentiamo presto per parlare dei prossimi e futuri progetti, appunto abbiamo compreso che sono molti. Quindi complimenti ancora per questo premio. Grazie ancora, arrivederci, buone feste. Grazie, altrettanto.